Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati su Abandon Ship Era parecchio che non portavo il titolo sul canale ma non mi sono completamente dimenticato del gioco né della serie che era in corso piuttosto ho cercato come avevamo preso accordi insomma negli ultimi episodi di farmare un pochettino in modo da avere una condizione di partenza migliore per continuare la serie un pochettino più speditamente ho comprato l'ultima nave, la nave più potente che c'è in gioco ecco posso farvi vedere, l'ho equipaggiata con un setup leggermente diverso perché qui non ho più dei canoni standard, ma ho dei lobber che sono dei canoni tipo esplosivi che fanno molto 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 danno allo scafo una volta che si è lontani quindi prediligo la distanza rispetto allo stare vicino mentre invece qui ci sono dei cannoni quelli standard e qui allo stesso modo ci sono sempre dei cannoni standard niente ho trovato questo in modo molto molto rapido per tirare giù la nave in fretta non ho ancora trovato un modo comodo per riuscire a conquistare la nave e uccidendo tutto l'equipaggio perché quello risulta ancora abbastanza abbastanza complicato inoltre, oltre a questo ho comprato parecchie section upgrades come potete vedere è quasi tutto maxato, mi mancano ancora queste due da mettere a full crack resistance e le due sezioni di cannoni che utilizzo molto molto di rado che hanno semplicemente il rinforzo al ponte e non tutti gli altri ma pian pianino penso di poterli comprare tanto ormai abbiamo la nave quella definitiva e sono gli ultimi soldi insomma che andremo a investire credo in questo momento perché di upgrade non ho mai trovato delle cose particolarmente importanti se non quelle che impediscono appunto o all'altra nave di allontanarsi o di venire ad abbordare eccetera eccetera che per ora non mi sono sembrate così fondamentali ecco diciamo non ho trovato nulla che fosse necessario siamo messi molto bene come pesce come soldi un pochettino di meno perché ho continuato a investirli e nulla l'unica cosa è che il mio equipaggio è migliorato ma non è ancora fortissimo soprattutto sul combattimento sono abbastanza scarsi come potete vedere abbiamo due due uno questo è a tre ma perché è un combattente questo è due 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 quindi diciamo che da quel punto di vista pecchiamo un pochettino ho cercato di aumentare un po' le altre caratteristiche infatti come potete vedere sono abbastanza messe bene se non quella del medico che spesso in giro ha a curare la gente quindi sul sparare e il riparare non è molto in forma però insomma dovrebbe essere tutto abbastanza posto morale siamo 80 perché mi è capitata una cosa un po' strana nell'ultimo combattimento ma vabbè detto questo allora noi ci troviamo qua in questa situazione in cui come missione attuale abbiamo di andare in alto a nord che è un punto qui è un punto qui non esplorato e direi che in questo momento possiamo anche decidere di andare in quella direzione là questo è il punto più vicino che ci permette di andare là e questo quanto ci fa spendere? dovrebbe essere 50 sì il fast travel ho visto che è 50 in qualsiasi caso quindi in questo momento ci risparmiamo 50 di pesce perché ogni collegamento sono 25 questi sono 50 e altri due sarebbero altri 50 per cui sì beh poi 25 perché in realtà 25 dobbiamo spendere ma va bene non è troppo grave allora andiamo a vedere lassù se per caso troviamo qualche cosa da pescare così almeno ne approfittiamo allora 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 c'è qualcosa qua da pescare da tirare su in qualche modo? no e andrei a evitare i combattimenti perché non sappiamo che cosa troveremo in quella situazione quindi diciamo che ci facciamo bastare con gli 895 che comunque pochi non sono sono arrivato anche ad averne molti di più tipo 1200 una cosa del genere poi mi sono spostato molto senza pescare quindi qua c'è roba allora c'è un tizio in mare che possiamo andare a salvare non è male c'è del pesce che non so se è comprare pescare ok però noi ci vendiamo dal dubbio perché il pesce ormai solo è l'unica cosa che ci ci preoccupa sinceramente e l'esperienza dei nostri tizi ok niente era morto gli abbiamo fatto il funerale no non ho senso che io spenda dei soldi perché ho molti pochi soldi e molto più pesce per cui al massimo al massimo il contrario di vendere pesce no nulla andrei a evitare tutto il resto perché appunto come ho detto prima non sappiamo cosa troveremo quindi teniamoci lo scafo il più in forma possibile e andiamo a vedere qua che cosa ci succederà nella continuazione della nostra quest principale ok ok tutto completamente ghiacciato non so perché ci sia un modo per procedere però dice strano perché nelle mappe dei cultisti era indicata proprio questa zona e dice ah forse si vede qualcosa in lontananza guardando con attenzione in lontananza dal cannocchiale vedete una nave del culto come è riuscita ad arrivare fino laggiù magari il ghiaccio l'ha incastrata e e l'ha tirata su dall'acqua alla prua c'è un grande oggetto metallico simile ad un aratro ah hanno utilizzato quello per passare attraverso il ghiaccio eeeh data la distanza sta effettivamente funzionando ok voltare should be able to help you dice abbiamo bisogno di una spacca di un rompighiaccio insomma dobbiamo andare a cercare questo voltare in modo da poter attraversare reach revocation ok ora dobbiamo andare all'endfall ok dobbiamo ritornare fino laggiù per consigli su come passare di qua a saperlo prima avremmo potuto evitarci tutto questo viaggio cioè avremmo potuto passare di qua la prima volta è buono di fregarcene allora non so quasi quasi se a questo punto che siamo qua picchiare un po' di gente qua un po' di gente di là eeeh così fare un po' di soldi e di pesce penso che farò così eeeh metto in pausa un attimo la registrazione farmo questi pezzi qua e ci rivediamo dopo rieccoci allora come tutta un po' di gente ho ottenuto un po' di pesce ma perso anche molto pesce per degli eventi di ratti che infestano la nave comunque più o meno stiamo lì sono riuscito a comprare però dei nuovi upgrade che vi faccio vedere eeeh qua ho messo in entrambi questo e ho messo quello anti-esplosione che ho potuto permettermi grazie agli sconti che avevo siamo arrivati dove dovevamo arrivare allora cerchiamo a voltare eeeh ok siamo riusciti a trovare negli archivi labirintici oh sei tu eeeh è contenta di vederti anche seeeh eeeh no è contenta di vederti se stai bene eeeh lei spieghi dell'affare là del ghiaccio e le chiede come possa essere acquistato un oggetto del genere o acquisito quello che tu descrivi è un icebreaker eeeh proteggono dagli iceberg e dai mh dagli imprevisi congelamenti eeeh l'unico posto dove so che praticano ancora questa tecnica di costruzione eeeh ci sono un paio di porti nel mare freddo eeeh ora se stai andando in quella direzione sarei molto curiosa eeeh ah vorrebbe venire con noi ma mh si sono uno studente non una persona affamata di adrenalina sorride ancora eeeh il mio posto è qui con i miei libri eeeh però sarebbe un peccato se non tornassi a a disturbarmi ancora ok allora vediamo un attimo tra l'altro voglio vedere se troviamo no grapeshot già ce l'abbiamo voglio vedere solo una roba perché eeeh questo è un changehot vero si anti-ram automatic winch eeeh lifebot no ok ok perché stavo leggendo nel frattempo mentre stavo farmando un pochettino eeeh le opzioni per poter fare un setup buono per il corpo corpo in modo da fare esperienza di combattimento e migliorarci la ciurma perché come dicevo prima siamo un po' deboli da quel punto di vista allora dov'è che dobbiamo andare adesso qua come obiettivo diciamo un paio di posti nel freddo nord ah qua dobbiamo andare ok ok dobbiamo andare fin là quindi farei un fast travel qua dove c'è un porto facciamo un po' di robina e poi ok fast travel spendiamo un po' di pesce però speriamo presto di essere in una situazione più ottimale anche con con i soldi in modo da poter spendere tranquillamente anche in pesce cosa qua è bloccato è rosso perché chi è che sta bloccando il commercio qua della gente molto cattiva allora innanzitutto andiamo a picchiare questi perché mi da molto fastidio vorrei fare vorrei raccogliere un po' di roba e picchiare un paio di nave in questo settore e se qui mi bloccano costa davvero tutto troppo allora io userei la strategia di girare contro di loro gli alifron in modo da evitare il più possibile che mi facciano dei danni perché abbiamo perché stiamo perdendo danno costantemente stiamo perdendo danno costantemente cos'è ah ci sono gli iceberg se non abbiamo un icebreaker continuiamo a prendere danni ah questi si picchiano da soli perché hanno la stessa roba mia mi sa loro allora un alifron è morto facciamo che sparare all'altro così magari riusciamo a farlo morire prima che venga in qua no porca miseria non ci voleva questa si ok che stanno salendo di livello di combattimento però vorrei evitare che vengano in qua gli alifron che poi no beh se vengono poco male ce ne so se prendiamo ancora che viene a combattere il suo tizio no tu vai a curare questo e anche lui allora questo ah no aspetta tu occupati di questo tu occupati di questo medico sali su perché lui non è messo benissimo e non è un gran combattente ok la nave esplosa realmente quindi siamo a posto tu scendi giù voi allontanatevi tanto non è necessario non è necessario stare là ok abbiamo preso abbastanza danno quindi non ci conviene stare qua più di tanto perché va a finire che spendiamo più di quello che guadagniamo vediamo vediamo un attimo se ci sono degli eventi così che possiamo fare senza prendere danno perché i combattimenti non sono un'ottima cosa abbiamo visto allora facciamo che intanto si ok abbiamo tutti i porti aperti quindi possiamo ok del pesce ottimo buono allora ripariamo una nave che ci costa 15 quindi già abbastanza allora vorrei vedere se double shot cos'è che hanno ancora berserk dart gun sì no nulla che ci interessa in questo momento quindi invece qua abbiamo heavy hole spikes va bene no niente di importante in questo momento allora noi dobbiamo andare in su abbiamo detto vero sì dobbiamo salire in su quindi andiamo su senza perdere troppo tempo perché qua appunto abbiamo visto che combattere non ci serve a molto perché prendiamo più danno di quello che guadagniamo in pratica con questo discorso degli iceberg ci proviamo porca miseria dobbiamo andare a riprenderci il tizio ci ha mezzo massacrato un uomo per fortuna eravamo qua vicini apothecary revive e remove per fortuna avevamo un po' di soldi tra l'altro qua mi è capitato un evento casuale su questo tizio qua per cui ha paura dei mostri e non si può togliere perché è un tratto mentale per cui l'apothecary non ci può fare nulla con quello non so se più avanti troveremo qualcuno che può risolvere questo tipo di problemi ma al momento siamo un po' nei guai da quel punto di vista cioè bene nei guai e che prende cioè fa più fatica contro gli alifron o contro i mostri in generale comunque allora andiamo qua sopra speriamo ci sia un porto così almeno da poter fare qualche cosa aia ma intanto ci sono sempre degli iceberg non c'è un faro e mi sa che non c'è neanche un porto non lo so io mi auguro di trovarlo un porto perché è sempre buono avere un punto d'appoggio ma probabilmente non ci sarà nulla qua e bisognerà andare nel prossimo affare so che qua dobbiamo fare per forza degli eventi per aprirci le porte per cui se non c'è un porto dovremo cercare di fare quelli meno pericolosi e poi al massimo tornare indietro però spendiamo del pesce e ora siamo messi abbastanza bene di pesce però non lo so ho sempre paura di spendere il pesce perché non è che abbiamo la possibilità di spendere soldi a non finire ecco almeno fin dato che non abbiamo tutto setupato al meglio perché comunque i soldi vanno molto via facilmente oh 87 di pesce è ottimo 29 di soldi non sono male sono più o meno quanto una riparazione da un combattimento allora quello non ci interessa peschiamo ok 22 ah no questi 20 qua non ci danno non ci aumentano il contatore là perché sono degli eventi non randomici in cui raccogliamo e boh si anche quello forse quello della diving bell può tornarci utile non andare là in combattimento con quello non mi interessa ora no mi sapevo che non c'è un porto a meno che non sia nascosto in questo angolino qua in su che mi pare strano e invece e invece c'era nascosto in questo angolino qua ah no è uno di quelli volanti ok mi sono fatto prendere troppo dell'entusiasmo e che tanto la riparano poco e non è che puoi fare più di tot com'è che sono le condizioni per questo porto cos'è che dice patch all si però ripara fino al massimo 40% quindi che cosa che abbiamo qua da poter fare la campana proverei questo e poi niente dobbiamo picchiare della gente per forza ok siamo 2 su 6 noi dobbiamo andare a destra vero si quindi 7 dobbiamo farne ce ne mancano ancora 5 sarà impegnativo il punto sconativo dove era qua sotto poi farei le barche normali verso le barche normali ci sono un tot di possibilità che sia qualcosa che non si scatena in un combattimento alifron ok questo non dovrebbe essere troppo complicato da gestire ora come ora io ne manderei 3 qua perché prima abbiamo cioè prima ho combattuto in una situazione analoga e ho rischiato molto è perché il problema è che si mettono entrambi ad attaccare lo stesso vai via vai via andate via voi ah lui deve curarsi là per cui andate via voi ok ottimo più 10 e abbiamo fatto anche un pochettino di esperienza di combattimento allora allora ancora 4 facciamo anche fare questi qua intorno vediamo un po' proviamo a girarci no vabbè dai stiamo così allora giriamoci poi in fretta ma anzi direi che per questo episodio può essere tutto visto che abbiamo già superato i 20 minuti concluderò questo combattimento e magari anche quelli successivi per sbloccare il porto e ci vediamo nel prossimo episodio vi invito a lasciare un mi piace un commento qua sotto e iscriveteci per caso non è già fatto ciao a tutti e buona giornata a Grazie per la visione!